I magi dal cuore inquieto, testimonianza dei semi di verità che Dio pone in ognuno, uomini che da ogni parte della terra sono accolti nella casa di Gesù perché davanti a Lui non ci sono più differenze di razza, lingua e cultura. Nella solennità dell'Epifania, nella messa celebrata a San Pietro, Papa Francesco ha disegnato così i tre re magi che avevano scrutato il grande libro del cielo, scegliendo di seguire la stella. Fu quella la decisione che cambiò la loro vita nel voler dare ascolto alla voce dello Spirito Santo che, ha ricordato il Pontefice, lavora in tutte le persone. È l'uscire da se stessi, dalle proprie chiusure e riconoscere lo splendore della luce. La Chiesa non può iludersi di brillare di luce propria, non può. Cristo è la vera luce che rischiara e nella misura in cui la Chiesa rimane ancorata a Lui, nella misura in cui si lascia illuminare da Lui, riesce a illuminare la vita delle persone e dei popoli. La luce che viene dall'alto, ha giunto il Papa e che corrisponde alla vocazione della Chiesa, annunciare il Vangelo ma senza farne una professione. Per la Chiesa essere missionaria non significa fare proselitismo. Per la Chiesa essere missionaria equivale ad esprimere la sua stessa natura, cioè essere illuminata da Dio e riflettere la sua luce. Questo è il suo servizio. Non c'è un'altra strada. La missione è la sua vocazione. Risplendere la luce di Cristo e il suo servizio. Quante persone attendono da noi questo impegno missionario, in questo senso, perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del Padre. Anche gli uomini di oggi vivono come i magi, con il cuore inquieto, senza risposte certe, in attesa di scorgere una stella che illumina, di seguire quella luce piccolina che Dio offre e che siamo chiamati a riconoscere. Una volta giunti davanti a Lui, ha aggiunto il Papa, adoriamolo con tutto il cuore e presentiamogli i nostri doni, la nostra libertà, la nostra intelligenza, il nostro amore. La vera sapienza si nasconde nel volto di questo bambino. È qui, nella semplicità di Betlemme, che trova a sintesi la vita della Chiesa. È qui la sorgente di quella luce che attrae a sé ogni persona nel mondo e orienta il cammino dei popoli sulla via della pace.